L'unico a provare a rispondere è Riccardo Lucca. La mia volta che quest'anno è riuscito a provare la sua prima vittoria tra l'Italia del 23 in Svizzera e la Silenia in Bristen. In Italia si è pensato al terzo posto nel giro del Mediopolesine e della Coppa Marignana. Ormai si allarga il vantaggio della doppia di testa con Riccardo Lucca, il progettore di Rovereto, che passa per primo sul Gran Premio della Montagna, del Monte di Ragogna. Il vantaggio nei confronti del gruppetto degli inseguitori si sta riportando anche con il giro dotato da Filippo Paolo Cini.